Parte questo grande momento e questo grande progetto che è Saremosol, che vede insieme un grande interscambio culturale. Mentre voi continuate a parlarci di piatti prelibati, io do il benvenuto al nostro registra Veronesi, ben trovato. Un po' di questo. Grazie, a questo? Questa è la cima? Sì, questa è la cima, sì. Devo dire, per i miei gusti vince la Lucania. Questo appuntamento con i nostri chef da qui si conclude e noi ringraziamo anche il grande regista Veronesi di essere stato con noi, è stato un piacere.